Il Partito Democratico a tutti i livelli non può non prendere posizione nei confronti di un suo dirigente che impone ai lavoratori di cancellarsi dal sindacato e soprattutto non rispetta le leggi sulla sicurezza del contratto di lavoro. Il PD, partito che esprime il Ministro del Lavoro, non può tacere rispetto alle discriminazioni perpetrate da un suo dirigente di Sant'Andrea di Conza nei confronti dei lavoratori della SCAF. Comincia così la dura nota stampa a firma del segretario generale della FIOM CGL Giuseppe Morsa. Nello specifico, continua il segretario, il dirigente del PD nonché componente del collegio dei revisori dei conti dell'Alto Calore, in barba alla libertà di adesione al sindacato, ha provveduto a sospendere i lavoratori che non ha ubbidito alle sue richieste di dimettersi dal sindacato. Al netto delle battaglie sindacali e giuridiche che la FIOM CGL di Avellino sta portando avanti, ci aspettiamo che un partito di governo prenda posizione su questa triste vicenda, anche perché spesso assistiamo ad uscite infelici da parte di autorevoli dirigenti del PD nelle quali ci spiegano quale dovrebbe essere il modello del sindacato moderato utile ai lavoratori. A questo punto, conclude Morsa, ci viene da chiedersi se la modernità che immagina il PD è quella praticata al SCAF. Intanto questa mattina il sindacato ha manifestato davanti ai cancelli dell'azienda. Allora siamo costretti di nuovo di stare davanti alla SCAF per denunciare ancora un atteggiamento discriminatorio da parte del datore del lavoro, che ricordiamo è un dirigente del PD. Ha licenziato il nostro amico Gerardo perché si è opposto a questo regime autoritario che lui impone all'interno dello stabilimento. L'opinione pubblica, la politica e lo stesso padrone deve sapere che non ci fermiamo fin quando non sarà ristabilita la democrazia e il diritto di dissentire rispetto a questo atteggiamento padronale. Il lavoro viene prima di tutto fatto in democrazia, la FIOM non si ferma facilmente.